Da ieri, sabato 18 febbraio, sono stati posizionati New Jersey in piazzale Europa a delimitare lo spiazzo che sarà occupato dai bus in manovra. Andrà quindi a cessare la necessità per gli autobus di andarsi a girare alla rotonda di piazzale Italia. Le manovre di inversione di marcia da quando è stato aperto il cantiere alla Siamic, della quale ora è rimasto solo un piccolo baluardo, sono state difficoltose, costringendo gli autisti a dover fare inversione di marcia sulla rotonda per essere più agevolati, anche se spesso trovavano vetture parcheggiate in divieto ad ostacolare il passaggio. Tutte auto di clienti mordi e fuggi delle attività in Viale Padova ma che creavano intoppo ad ogni corsa. Ora, finalmente, con il nuovo tracciato, gli autisti degli autobus extraurbani che qui hanno capolinea dovrebbero riuscire a fare manovra senza trovare ulteriori impedimenti. Chi ne risentirà di tutto il passaggio dei bus sarà la piazza. I bus dovranno infatti salire sulla pavimentazione della stessa in San Pietrini e visto il peso dei bus e la frequenza delle corse, probabilmente al termine del cantiere, quando la viabilità non avrà più questa necessità, ci sarà una pavimentazione da rifare. Grazie a tutti!